Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 12 del settimanale di FAN. Non è andata come si sperava l'Alma domenica in casa contro la Vigor Senigallia. L'obiettivo era duplice, cancellare lo smacco dell'andata e allungare una striscia positiva particolarmente importante al Mancini per continuare a credere fortemente nei play-off. Play-off che restano obiettivo alla portata della squadra Granata che però dovrà riscattarsi immediatamente nell'impegno infrasettimanale di San Benedetto del Tronto. Un'altra sfida tutta marchigiana che naturalmente l'ambiente Granata si confida dall'esito diverso. E ospitiamo questa sera rappresentanza dell'Alma Juventus Fano, Nicola Zanni, centrocampista della squadra di Mosconi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E Andrea Tomasino, portiere della squadra Granata. Buonasera anche a lui. Buonasera. Zanni è stato uno dei protagonisti della gara di domenica perché i palloni più invitanti, diciamo così, sono capitati sui suoi piedi. Possiamo far partire le immagini di questa sfida. Purtroppo in un paio di circostanze in particolare non è stato abbastanza fortunato e sarebbe stato chiaramente fondamentale in una partita così equilibrata, con poche situazioni da rete, sbloccare il risultato. Cosa che invece è riuscita a fare la Vigor Senigallia a rientro dagli spogliatoi. Condividi questa lettura? Sì, sì, condivido a pieno. Purtroppo non siamo riusciti a fare male come ci hanno fatto loro. Ecco, la tua prima conclusione è che qui non sei stato veramente fortunato perché con il portiere coperto bastava angolarla anche un po' e probabilmente sarebbe stato gol. Diciamo sì, che qui l'ho presa troppo bene, come si dice. Il tiro è finito centrale, magari anche una piccola deviazione avrebbe potuto aiutare. Come stavo dicendo, purtroppo è andata male, fa doppiamente male davanti ai nostri tifosi. Tra l'altro c'era una gran cornice di pubblico e il rammarico è anche e soprattutto questo. Il rammarico è anche e soprattutto questo, sì, sono d'accordo perché giocare davanti a tutto questo pubblico non capita tutte le volte in Serie D. È stato emozionante e ci dispiace anche per tutti i nostri tifosi che sono venuti al seguito per vedere questo derby. Quando di opportunità, dicevamo, ne capitano poche nell'arco di una partita del genere, chiaramente ogni piccolo errore può fare la differenza. Questa squadra granata che probabilmente non è stata abbastanza efficace in occasione del gol della Vigor Senigallia che vedremo tra poco e che nel corso del primo tempo, in cui comunque ad un certo punto, dopo pochi minuti, è riuscito ad alzare il pressing, a cominciare a rubare a palloni, probabilmente è mancata nella precisione e anche nella scelta riguardo all'ultimo passaggio. Sì, 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 la disanimina è corretta perché a parte i primi cinque minuti magari dove abbiamo, tra virgolette, sofferto magari anche l'emozione di una partita abbastanza importante e poi siamo riusciti a andare a prendere la Vigor Senigallia come facciamo tutte le domeniche, come facciamo tutte le partite e, come hai detto tu, esattamente ci è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo tassello per andare in vantaggio perché poi in queste partite qui, come si è dimostrato, chi va in vantaggio alla fine porta a casa i tre punti. Il gol della Vigor Senigallia l'abbiamo appena rivisto, a rientro dagli spogliatoi non siete stati sufficientemente pronti su quell'azione, non l'avete letta nella maniera giusta? A rientro dagli spogliatoi sì, siamo entrati un po' al contrario del primo tempo e ci metto anche del mio perché ho perso prima il pallone, prima della rimessa laterale per la Vigor Senigallia da cui poi è nato il gol e dopo il gol loro c'è mancata anche forse quella forza di reagire. L'impressione è che siano venute meno, prima le energie fisiche e poi anche quelle mentali. Sì, prima le energie fisiche e poi quelle mentali perché comunque abbiamo speso tanto nel primo tempo e il gioco che attuiamo noi è un gioco dispendioso perché comunque andare sempre a prendere l'avversario alto e con tanta foga chiaramente ti toglie tante energie. Tomassino che partite ha visto dalla panchina, soprattutto che Vigor Senigallia ha visto perché stiamo dimenticando che avevate di fronte una squadra che non a caso è seconda in classifica e che anche al Mancini ha mostrato una cifra di gioco e anche una solidità di impianto decisamente sopra la media. Assolutamente, la Vigor Senigallia ha un bel gioco, la loro forza è che sono tutti uniti tra di loro, sanno sempre che giocate a fare, escono bene col passaggio, hanno poca tensione con la palla tra i piedi e riescono quasi sempre a ripartire in contropiede sperando appunto nel gol con le ripartenze veloci. E dietro ci si può leggere il fatto che sia una squadra che si trascina la struttura del campionato di eccellenza vinto l'anno scorso e che quando i risultati vengono tutto diventa un po' più facile. Più facile, assolutamente. Quando si vince anche a livello morale, dentro ogni giocatore c'è una cosa nascosta che viene fuori e tira fuori una grinta che non si può descrivere. Risultati che comunque anche l'Alma ha collezionato di recente, diciamo di cinque vittorie consecutive. Avasto Girardi siete tornati alla vittoria anche in trasferta. Adesso l'importante è non far pesare sul morale e sull'ambiente questo passo falso. No, assolutamente, perché viene la partita con la San Benentese che è una partita altrettanto importante e subito dopo. Meglio così, si può dire? Secondo me sì, meglio così perché abbiamo subito l'occasione per rifarci, non dobbiamo neanche aspettare una settimana intera per andare a giocare e quando c'è il turno infrasettimanale e la domenica si è perso forse si ha anche qualcosa in più per andare a vincere la partita. San Benedettese che ha vissuto un'annata piuttosto travagliata di seguito ai problemi societari che ancora pare non siano definitivamente risolti è però una squadra dotata di ottime individualità e che anche all'andata a Fano questa individualità le ha messe in mostra. Sì, singolarmente la San Benedettese è messa molto bene, ha dei giocatori molto forti e anche se hanno dei problemi economici dietro la società comunque i ragazzi scendono in campo sempre con la voglia di vincere tralasciando magari gli stipendi, i soldi e pensano solo al calcio. E questo depone a favore della serietà di questi giocatori che stanno inannellando a loro volta dei risultati significativi nell'ultimo periodo che hanno consentito di tirarsi fuori da una situazione di classifica un po' complicata. Che partita ti attendi Zanni e se il fatto che la curva della San Benedettese che è una delle grandi risorse di questa squadra da sempre se ne stia fuori dallo stadio può essere un vantaggio per voi? Ma che ci sia la curva o meno forse sì, forse può incidere qualcosa in più, sì. Però noi arriviamo molto arrabbiati per la partita persa con la Vigor, è un'altra partita molto sentita sia dall'ambiente, dai tifosi anche quella con la San Benedettese e abbiamo oltre che la partita con la Vigor sul gruppone abbiamo anche la partita dell'andata persa all'ultimo minuto da vendicare, diciamo. In quel caso forse per eccesso di foghe e di generosità alla ricerca magari della vittoria vi siete fatti travigere in contropiede in pratica. Sì, abbiamo perso un pallone a 30 secondi alla fine, pallone che dovevamo magari buttare in era di rigore e sperare invece abbiamo provato a giocarlo ma purtroppo è andata come è andata e speriamo giovedì di rifarci. Dopo una sconfitta sicuramente è di aiuto poter contare su un ambiente interno, uno spogliatoio molto unito, molto affiatato i giocatori che si sono alternati ai nostri microfoni in queste settimane hanno sempre raccontato che la grande risorsa di quest'alma è appunto la coesione dello spogliatoio, è così Tomassino? Assolutamente, come dici tu all'interno dello spogliatoio c'è un bel ambiente io personalmente non ho mai visto un ambiente del genere perché siamo tutti fratelli, siamo tutti una famiglia ci proteggiamo a vicenda anche se magari ci sono ogni tanto delle dispute ma come in tutte le famiglie normali riusciamo sempre a darci dei consigli, ad aiutarci tra di noi e questo è una cosa fondamentale per poter vincere le partite. Hai trovato qualche opportunità nell'arco della stagione ma il tuo ruolo fondamentalmente in questo campionato è quello di secondo portiere alle spalle di Bizzini, stai interpretando questo ruolo nella convinzione di poter comunque maturare delle esperienze soprattutto in allenamento al di là delle partite che ti consentano in futuro di scalare insomma le posizioni? Certo, io essendo comunque diciamo piccolo sono 2005 quindi davanti a me ho ancora molti anni di crescita e questo sicuramente è un anno che mi farà maturare ho collezionato qualche presenza che mi ha fatto comunque cambiare anche mentalmente in allenamento cerco sempre di dare il massimo anche se non sempre è facile mettendo magari anche un po' in difficoltà Bizzini anche se tra di noi ci vogliamo bene Insomma stai interpretando questa stagione così com'è, è corretto che sia Zanni invece è la seconda esperienza in Granata, evidentemente ti sei trovato bene al di là del fatto che l'anno scorso è stato molto più complicato Sì l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata, alla fine per fortuna è finita bene e nonostante il campionato difficile che abbiamo affrontato l'anno scorso ho deciso di rimanere anche grazie al mister Mosconi che quest'estate mi ha cercato e mi ha fortemente voluto la scelta si è rivelata sicuramente positiva ho fatto la scelta giusta possiamo dire perché comunque Fanno è una bella piazza e già mi sono trovato bene l'anno scorso quando le cose andavano un po' così e quest'anno ci siamo rifatti abbiamo fatto ricredere anche un po' l'ambiente che comunque non è stato facile perché l'anno scorso sappiamo le difficoltà che ci sono state e quest'anno ci stiamo stogliendo qualche soddisfazione in più e anche a livello personale posso dire che la scelta ti ti rende abbastanza soddisfatto esatto mi ritengo abbastanza soddisfatto andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultima giornata Pinetto che colleziona l'ennesima vittoria ormai sembra decisamente lanciata verso la promozione tra i professionisti la squadra di Amaolo, Vigor Senigallia che comunque abbiamo visto non molla affatto in zona playoff la differenza l'ha fatta in questo turno il Matese che ha superato largamente il vasto Girardi pareggio per il Porto d'Ascoli pareggio anche per il Cinzia al Balonga mentre in coda si fa sempre più critica la situazione di Tolentino e Notaresco entrambe battute andiamo anche alla classifica Alma che conserva il quinto posto anche se le lunghezze di vantaggio rispetto al Matese si riducono a due è un'Alma che in questo momento disputerebbe i playoff quello è l'obiettivo è un obiettivo che ritenete pienamente alla vostra portata? Assolutamente quest'anno a mio parere ce li meritiamo i playoff perché comunque abbiamo lavorato giorno dopo giorno abbiamo fatto vedere che squadra siamo e che calcio riusciamo a giocare se giochiamo tutti insieme se siamo in giornata e la cosa che speriamo ne parlavamo anche prima di avere la nostra rivincita contro il Vigor Senigallia che in questo momento affronteremo appunto di andare a vincere in casa loro sarebbe davvero una bella soddisfazione si sa che i playoff in Serie D hanno un valore relativo ma li affronterete con il massimo dell'energia e il massimo della determinazione Zanni? Assolutamente sì sono partite belle da giocare partite comunque importanti perché fa sempre piacere vincere i playoff e comunque è anche una cosa da mettere nel curriculum possiamo dire e ovviamente se dovremo affrontare ancora la Vigor Senigallia avremo anche una motivazione in più per andare a batterli in casa loro è stata una settimana importante perché di avvicinamento alla sfida con la Vigor Senigallia per Tomasino doppiamente importante perché ha affrontato un'esperienza quella della partecipazione alla Coppa Carnevale di Viareggio con una squadra americana che lo ha selezionato come hai vissuto quei giorni? Ho vissuto questi giorni abbastanza bene soprattutto fuori dal campo ho dato i risultati ma è stata una bella esperienza ho dovuto comunicare con gli altri tramite l'inglese quindi è una crescita anche culturale esatto, anche culturale ho visto le loro culture i loro modi di fare che sono molto diversi dai nostri e anche questo mi ha aperto un po' la mente a vedere come la gente affronta diversamente le partite magari rispetto a me è una squadra questa del UYSS che è espressione di Brooklyn mi pare esatto originariamente sarebbero una selezione di New York e delle città vicine e sono appunto questi ragazzi che sono stati selezionati solo per questo torneo e quindi prima di questa esperienza non avevano mai giocato insieme né si erano mai affrontati tra di loro e quindi è stato difficile soprattutto nei primi passi a conoscerci tra di noi magari sapere come gioca uno rispetto a un altro cosa che magari le altre squadre giocando sempre insieme tutto il campionato erano un po' più avvantaggiate grazie a Nicola Zanni centrocapista dell'Alma di Ventus Fano grazie anche ad Andrea Tomassino portiere della squadra Granata noi torniamo fra qualche attimo e occupiamoci adesso di pallavolo un primo importante prestigioso traguardo la Vigilar l'ha già centrato la vittoria in regular season certificata dall'ultima vittoria un po' più sofferta di quanto si potesse preventivare quella che è stata ottenuta domenica a Monselice le forze in campo sembravano davvero molto diverse Vigilar capolista del campionato Monselice fanalino di coda già retrocesso soltanto due vittorie all'attivo ma come accade spesso nello sport in campo tutta questa differenza si è vista relativamente nel senso che la Vigilar si è fatta sorprendere nel primo set dove conduceva peraltro 21-18 ha dominato nel secondo e nel terzo poi nel quarto non è stata sufficientemente concreta ha dovuto dunque ricorrere al tie-break che si è risolto come vediamo favorevolmente nonostante poi la squadra di Castellano abbia concluso la stagione regolare ex equo con Pineto a privilegiarla è stato il maggior numero di vittorie ottenute rispetto alla formazione abruzzese Vigilar che naturalmente da questo primato in regular season trae enorme beneficio perché avrà la possibilità anzitutto come vediamo dal cartello di disputare la Supercoppa che opporrà al Palace Allende sabato prossimo alle 20 la formazione virtussina l'Abba Pineto di fronte la squadra che appunto ha concluso in testa la regular season a quella che ha trionfato in Coppa Italia e poi lo spareggio promozione per salire in A2 avversario Ortona che ha finito davanti a tutte le altre nel girone blu Vigilar che avrà diritto a giocare la prima partita in casa e anche l'eventuale Bella questo perché ha ottenuto un maggior numero di punti rispetto agli abruzzesi che hanno regolato in volata Catania che fino ad un certo punto della stagione sembrava assolutamente superiore alle altre la prima sfida è in programma il 16 aprile domenica alle 19 appunto al Palace Allende gara 2 ad Ortona il 22 aprile alle 20 e 30 l'eventuale gara 3 di nuovo a Fano il 25 aprile alle 19 Di Pineto la vigilar sa abbastanza l'ha affrontato due volte nel corso della stagione sono state altrettante sconfitte Pineto che tra l'altro vive un momento di forma straordinario dell'Ortona ci piace ricordare ma non è un particolare di poco conto che a trascinarla a questa finale promozione è stato l'immarcescibile Lionel Marshall che continua ad essere nonostante gli anni che si trascina un giocatore di assoluto valore specie per un campionato di A3 ci sono carriere che a 19 anni sono ancora comprensibilmente tutte da costruire ed altre carriere che invece a 19 anni hanno già alle spalle una robusta trama anche se il bello ci sia ora deve ancora venire è il caso di Marco Gaggi pilota Super Sport Super Bike 300 nostro ospite questa sera buonasera e benvenuto buonasera a tutti Marco Gaggi è ormai alla vigilia di questa nuova avventura in questo campionato Super Bike Super Sport 300 di cui ormai possiamo definirti un veterano veterano ancora no perché comunque nonostante la mia giovedità sono tra i più piccoli però dai ho un po' di esperienza alle mie spalle che tipo di campionato è? con che moto si gareggia? e qual è la formula? le moto con cui corriamo sono 300 che derivano dalla strada quindi sono moto che si possono comprare di base al concessionario poi ovviamente quelle con cui noi corriamo sono molti step superiori a quelle originali e il campionato è il campionato del mondo campionato mondiale però corriamo solo in tappe europee ma in circuiti che sono poi quelli utilizzati anche dalla MotoGP e dai piloti di primo livello esatto il calendario è Super Bike noi siamo la categoria minore della Super Bike diciamo il primo step prima della Super Sport 600 e poi Super Bike che diciamo è la classe Regina mi pare che rispetto alla Super Bike questo campionato adotti anche lo stesso modello ci sono due gare nel weekend esatto esatto due gare una gara al sabato e una gara alla domenica gara 1 e gara 2 si comincerà ad Assen fra poco è un circuito che ti si addice? è un circuito che mi piace molto è un circuito storico Assen è molto bello non sono andato fortissimo l'anno scorso però sappiamo dove migliorare per quest'anno e allargando lo sguardo ai circuiti in cui si careggerà qual è quello che ti entusiasma di più? beh sicuramente le due italiane Misano e Imola sono quelle diciamo che aspetto con più ansia però tra i miei preferiti c'è anche Aragon e Portimao le ultime due tappe e questi qua principalmente è un campionato immagino seguito massicciamente anche dal pubblico proprio perché c'è questa connessione stretta con la superbike ma anche televisivamente gode di una copertura di altissimo profilo sì in Italia le gare si possono vedere in diretta su Sky Sport, MotoGP o Arena dipende dai weekend e poi chiaramente la copertura televisiva in tutto il mondo, mondiale quali sono gli obiettivi che ti poni per questa nuova stagione? per quest'anno l'obiettivo è stare costantemente in top 5 e fare qualche podio e cercare la mia prima vittoria mondiale il bilancio di queste tue tre precedenti avventure in questo campionato di che tipo è? sono sempre stato in crescita nei tre anni non sono mai riuscito a fare una stagione stabile ho sempre avuto dei problemi l'anno scorso un infortunio però siamo sempre andati in crescita ogni anno migliorando è una stagione che nasce sotto l'egida di un cambio di scuderia come si è evoluta la vicenda sì, l'anno scorso correvo per il team Vinales poi quest'anno il team Vinales ha deciso di non continuare più in questa categoria quindi sono passato nel team BR Corse un team tutto italiano un team molto giovane ma che ha fatto vedere grandi cose l'anno scorso puntiamo veramente in alto perché puntiamo a vincere il campionato di squadra perché all'interno chiaramente il nostro sport è individuale però correndo per delle squadre c'è anche il campionato delle squadre e puntiamo a vincere questo titolo e quindi abbiamo grandi aspettative cosa ti porti dietro delle precedenti esperienze? cosa ti hanno insegnato i precedenti campionati? tante cose in questo campionato la cosa principale che impari in questa categoria è non mollare mai e combattere perché le gare sono molto fisiche noi le chiamiamo molto maschi tanti contatti sembra di assistere talvolta ad una tonnara nel momento in cui soprattutto si parte sì, specialmente la partenza ma anche gli ultimi due giri perché siamo sempre attaccati quindi solitamente le gare finiscono che tra il primo e il quindicesimo per dire c'è un secondo pochissimo da questo campionato c'è un travaso di piloti nelle categorie superiori negli anni si è assistito a questo fenomeno? sì, sì la categoria è molto giovane perché questo tipo di moto non esistono da molto tempo la categoria è nata solo nel 2017 però tanti piloti che hanno fatto questo campionato sono poi passati alla 600 qualcuno è riuscito a arrivare anche in moto 2 come per esempio lo spagnolo Manuel González quindi sì e ti auguri immagino di ripercorrere le stesse tappe assolutamente sì e dal punto di vista delle prospettive più a lungo termine qual è il sogno che porti nel cassetto? chiaramente il sogno come penso quello di qualsiasi pilota è arrivare alla MotoGP la MotoGP è la più alta cosa che possa esserci nel motosiclismo a proposito di MotoGP hai seguito questo inizio di stagione decisamente movimentato eh assolutamente sì assolutamente sì e qual è il pilota di riferimento il tuo modello di pilota? in MotoGP attuale? ma non saprei dire sai e nel passato invece? nel passato beh chiaramente per la zona e tutto non si può non dire Valentino Rossi però ce ne sono ce ne sono tanti che mi sono piaciuti principalmente i più grandi dai Stoner, Marquez qual è il tuo stile di guida? il mio stile di guida sono uno che guida abbastanza dolce e sono abbastanza tondo lineare adesso negli ultimi anni lo sto cambiando parecchio però ho sempre le tendenze a guidare molto dolce al campionato ci si avvicina dopo una serie di test come sono andati? quali sono stati gli esiti? positivo i test sono stati molto positivi siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto con la squadra sono veramente contento e fiducioso per questo nuovo inizio di campionato a proposito di squadra quanto è importante essere affiancati da personaggi che hanno magari una lunga storia alle spalle e con i quali entrare in sintonia? eh molto molto il nostro team non vanta di una storia molto lunga ma può vantare di molti risultati fatti nel breve termine anche perché loro sono tutti giovani quindi hanno fame come ce l'ho anch'io importante il contributo del team anche proprio nella fase di messa a punto della moto è assolutamente fondamentale fondamentale che ci sia un buon feeling tra pilota e team sia per la messa a punto della moto che per la crescita di entrambi ti ritieni uno dal palato fine nel senso che vuoi la perfezione oppure ti adegui anche a quelle che sono le situazioni che si verificano no sono stato sempre abituato ad adattarmi un pochino e penso che sia la cosa migliore ad adattarsi un po' perché avere la moto perfetta è impossibile in questo sport dicevamo di un campionato che comincia ad Assen che si svilupperà nei mesi successivi che ti porterà in giro per il mondo la carriera del pilota è fatta così quanto ti pesa stare lontano da casa comunque è un'esperienza talmente affascinante e stimolante che la lontananza dagli amici piuttosto che dalla famiglia si fa sentire relativamente ma onestamente relativamente è perché per prima cosa sono abituato seconda cosa è anche un po' una parte bella di questo sport non mi pesa molto stare lontano da casa o lontano da famiglia dagli amici sono abbastanza abituato perciò non mi pesa lo faccio volentieri ecco come si svolge la tua annata qual è la fase dedicata anche alla preparazione fisica piuttosto che alla messa a punto della moto e all'organizzazione più complessiva della stagione ma principalmente allora questa è un po' la fase più delicata perché diciamo ormai il grosso del lavoro l'abbiamo fatto durante l'inverno si lavora duramente a livello fisico è molto importante ad oggi essere a livello fisico molto alto essere ben preparati atleticamente abbiamo fatto tutta la preparazione quanto durano mediamente le gare? ma una gara più o meno dura dai 20 ai 25 minuti non è lunghissima però è molto intensa è molto intensa soprattutto perché siamo tanti soprattutto a livello mentale concentrazione bisogna sempre stare concentrati e invece nei periodi in cui sei lontana da questa manifestazione come impieghi il tuo tempo? per esempio quest'anno ho finito il campionato ho detto adesso mi rilasso invece ho fatto tipo due mesi dove sono andato sempre in bici mi sono comunque allenato forse di più anche di quello che mi allenavo prima perché comunque sono un amante di sport in generale perciò mi piace passare il tempo facendo sport ricostruiamo questo tuo cammino che come molto spesso avviene dobbiamo dire in campo motoristico è cominciato molto presto eh sì 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 ho iniziato per la prima volta ad andare in moto a tre anni diciamo ti sei portato avanti con il lavoro per gioco proprio con le mini moto abbiamo alcune immagini dopo aver visto invece alcune altre più recenti qua già ci avevo sette anni eri adulto qui insomma sì sì qua iniziavo affrontavo ecco questo è il mio primo il mio secondo anno di campionato italiano che ho vinto qua ci avevo già dieci anni e questo è il trofeo sì sì all'età più o meno di sei anni ho iniziato a competere a otto anni ho fatto il mio primo campionato italiano perché prima degli otto anni non è possibile competere ufficialmente quindi si fanno solo gare regionali o comunque gare della zona che poi alla fine nella nostra zona sono abbastanza state sempre competitive le gare perché quelli che correvamo a sette anni siamo gli stessi che adesso corriamo nel mondiale zona molto produttiva sì dal nostro punto di vista sì sì e poi dopo si cresce sono passato dalle mini moto alle mini GP poi ho seguito con la pre moto 3 sempre in Italia dopo la pre moto 3 sono andato al campionato europeo moto 3 European Talent Cup che si correva in Spagna e poi sono approdato nel mondiale Super Sport 300 ha anche fatto parte di una specie di selezione di piloti i famosi talenti azzurri mi pare si chiamasse sì nel 2018 ho fatto parte dei talenti azzurri che possiamo considerare un po' come la nazionale italiana del motociclismo giovanile sì sì no no è giovanile perché comunque danno una mano ai giovani però diciamo è la nazionale italiana del motociclismo tutti gli effetti sì nel 2018 ho fatto parte di questa bella realtà hai sempre pensato che questo fosse il tuo sport? sì sì ho provato da piccolino mi ricordo che oltre che ad andare in moto sai come tutti magari giocavo a calcio eccetera però sempre le moto comunque non hai avuto molto tempo per scegliere insomma no 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 primo perché a calcio non sono molto bravo e secondo perché ho sempre la moto è il mio sport punto quanto ha significato avere una famiglia di un certo tipo al fianco in particolare un certo papà eh beh molto sicuramente se mio padre non mi si avesse messo da piccolino se non mi avesse fatto continuare da piccolino era un po' impossibile sono stati mai sollevati dubbi in particolare riguardo chiaramente alla pericolosità di uno sport che non è il più tranquillo del mondo insomma eh nì diciamo nì forse un pochino sì magari più dalla parte di mamma eccetera però da mia parte no come ti relazioni tenuto conto che sei molto tempo distante da casa con i tuoi amici i tuoi coetane a qualcuno diciamo i più stretti spesso vengono anche alle gare quindi diciamo ci teniamo sempre in contatto anche quando siamo alle gare tra un turno e l'altro ci scriviamo loro mi guardano tutti i turni perché le fai lì cioè un'amicizia molto intensa abbiamo anche perché loro piacciono molto le moto perciò mi seguono molto in questa tua carriera soprattutto negli ultimi anni hai tenuto molto Vigo il legame con la città che ti ha dato i Natali ormai 19 anni fa e sei anche testimonia di realtà cittadine che sono impegnate anche sul fronte della solidarietà sono vado sempre fiero di dire che sono fanese perché non lo so non lo so inestamente io ho questo regame con Fano perché mi piace mi piace dire che sono fanese ci tengo molto infatti ci tengo molto anche al fatto che comunque la città mi contraccambia con un supporto e sono molto contento mi piace molto portare Fano sempre con me tra l'altro testimonial dell'associazione Maruzza mi pare di un'altra associazione che è impegnata contro la fibromialgia mi pare sì esattamente Amici Senza Frontiere Amici Senza Frontiere in questo caso credo che l'abbinamento sia estremamente funzionale perché Amici Senza Frontiere cerca di imbastire legami in giro per il mondo in particolare con le città gemellate e tu il mondo lo frequenti abbastanza insomma sì 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 tra l'altro a pochi giorni andrò a Santo Albans quindi sono contento anche di questo quindi sarai portabondiere in una delle realtà gemellate con Fano dicevamo dei tuoi inizi molto precoci ma ribadiamo anche il concetto che questo è uno sport in cui si deve iniziare comunque presto perché altrimenti si fa fatica sì sì un po' di tempo fa per esempio i vari Valentino hanno iniziato un po' più tardi no Valentino ha iniziato presto però c'è qualche altro pilota che è arrivato in alto che ha iniziato tardi ma erano anni diversi adesso bisogna iniziare presto perché comunque certi automatismi che impari da piccolino te li porti dietro sono molto molto importanti qual è il rapporto con la concorrenza con gli altri piloti fino a che punto arriva la rivalità e fino a che punto invece il fatto che registriamo anche ad altissimi livelli di competere comunque ogni weekend in una gara che comunque presenta delle difficoltà poi alla fine fa sì che ci si abbracci ci si scambi il 5 ma sì con molti rivali c'è un bel rapporto comunque dai magari ci troviamo anche fuori dalle gare a fare altro quindi onestamente nel nostro mondo non c'è diciamo ci sono delle rivalità un po' accannite ma sono veramente veramente poche di solito c'è sempre un bel rapporto c'è una condivisione di questa esperienza che state affrontando sì con qualcuno con alcuni proprio ci troviamo sin da piccoli siamo cresciuti insieme ancora andiamo a vacanze insieme con qualcuno e quindi anche il discorso di lottare comunque per un unico obiettivo che potrà essere centrato da pochi non vi condiziona più di tanto no fuori dal circuito fuori dal circuito no dopo quando sei nel circuito nel weekend di gara un po' di più c'è qualcuno un po' scorretto capita poi nella nostra categoria molto fisica ci sta però quindi bisogna attrezzarsi insomma sì bisogna adeguarsi ascolta da ultimo parliamo anche di quella che è la tua vita al di là delle moto nel senso adesso sei totalmente concentrato su questa avventura ma ti stai preparando anche a un domani diverso da quello che ti si prospetta nel mondo delle moto principalmente io ho sempre puntato sin da piccolo a rimanere nel mondo delle moto cioè adesso ho finito la scuola questo è il mio primo anno dove finalmente mi dedico al 100% al motociclismo però comunque nel mio futuro e di questo stai traendo beneficio? sì assolutamente perché tanto tutto il tempo che prima dedicavo alla scuola e agli studi adesso lo posso dedicare al 100% sul mio sport però comunque ho sempre puntato a rimanere all'interno di questo mondo magari come figura diciamo con altri compiti in altre dimensioni sì 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 all'interno di un team ci sono i meccanici ci sono anche i capotecnici che è la figura che diciamo gestisce tutto il setup della moto parla con il pilota e quella è un po' la figura diciamo che mi piace al di fuori del pilota chiaramente quindi il tuo futuro è legato comunque alle moto sì 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 al motosport in generale ringraziamo Marco Gaggi pilota del campionato Superbike Super Sport 300 che partirà tra poco da Assen e noi vi attendiamo tra qualche istante una sua storia a Fano ce l'ha anche il baseball una storia costruita nei decenni c'è poi un presente che viene sviluppato dal Fano Baseball 94 di cui ospitiamo stasera il presidente Antonio Vallieri buonasera e benvenuto buonasera buonasera a tutti e il lanciatore Luca Pierotti buonasera anche a te buonasera dicevamo di una storia comunque significativa perché il baseball a Fano si è sempre praticato anche se non ad altissimi livelli ha sempre rappresentato uno sport sì di nicchia ma con un suo seguito anche a livello giovanile e che attualmente vede appunto questa società il Fano Baseball 94 impegnata da una parte in un campionato quello di serie B che sta per aprirsi dall'altra in un'attività di reclutamento che viene svolta con grande attenzione grande scrupolo a Valieri chiediamo anzitutto di questo campionato che sta per cominciare lo affrontate con una squadra molto ringiovanita rispetto agli anni precedenti assolutamente sì c'è stato diciamo un cambio generazionale i senatori diciamo della prima squadra in questi ultimi anni hanno tirato diciamo la carretta per portare avanti diciamo i giovani più promettenti come Luca qui presente per dare continuità però poi è arrivato il tempo anche per loro diciamo di come si dice di appendere diciamo la mazza al chiodo come vogliamo come vogliamo dire quindi diciamo da una squadra più eteriogenea anzi con giocatori di varie età siamo arrivati invece ad una negli anni e quindi proprio in questo anno addirittura ad avere una squadra giovanissima per cui diciamo età media per dare un'idea il giocatore più anziano è del 2000 e quindi gli altri giocatori sono dal 2000 al 2002 quel che è presente Luca fino anche a dei 15 anni ecco che sono in prima squadra sono giocatori che giocheranno nelle categorie giovanili under 15 under 18 e che ci daranno una mano anche per la per la squadra la prima squadra che gioca in serie B una scelta quella di dare spazio ai giovani che è in continuità con la politica societaria assolutamente sì assolutamente sì abbiamo cercato per completare il roster così si chiama diciamo una formazione di baseball l'organico si chiama roster abbiamo molte terminologie diciamo in inglesi o anglofone e diciamo ci siamo rivolti oltre a dei giocatori della nostra città abbiamo un accordo di collaborazione da alcuni anni con la vicina società di Pesaro quindi ci sono ottime collaborazioni e in più abbiamo diciamo in squadra quest'anno dei giovani ugualmente lo stesso dai 15 ai 18 anni che vengono dalla società gloriosa di Rimini quindi campioni di scudetti di Coppa Italia Coppa di Campioni e dalla società anche di Ancona quindi diciamo abbiamo fatto una squadra a formazione fanese diciamo però impronta fanese però con anche un innesto di giovanissimi di altre di altre società per dare spazio a questi giovani diciamo del via imminente a questo campionato nel frattempo state sostenendo dei test di nuovo contro Rimini nell'ultimo weekend quali sono state le risultanze? beh diciamo che le prime due le abbiamo giocate con la società Junior Rimini dice un po' nome stesso sono diciamo la seconda fila della società Rimini quelli cui ci hanno prestato questi giocatori quindi che militeranno in serie C sabato scorso invece abbiamo giocato con la formazione Junior Rimini che è appena retrocesso dalla serie A quindi con un monte di lancio con giocatori un pochino più esperti dove comunque abbiamo ben figurato e sabato prossimo andremo a giocare contro un'altra società di Rimini che si chiama Rimini 86 che è appena anche lei diciamo salita in serie B fino all'anno scorso era in serie C quindi è un'incognita un po' per noi Luca Pierotti sei stato indicato come uno dei veterani di questa squadra alla tua età insomma una responsabilità non da poco come te la porto come te la cuci addosso il fatto di essere uno tra i più grandi alla fine è una responsabilità grande perché devi comunque dare l'esempio a quelli che sono entrati ora e non puoi commettere errori cosa che magari ti potevi permettere anni passati quando non eri il più grande adesso sono diciamo passato quindi dall'altra parte e devo dare io quello che è l'esempio verso i ragazzi più giovani in pratica assumi il compito che era dei giocatori più anziani fino all'anno scorso esatto e questo che magari ti hanno fatto vedere come si fa esatto e questo nuovo compito cioè sono onorato comunque di poterlo svolgere perché vuol dire che ho comunque maturato durante tutti questi anni e il fatto di essere ora io ad esempio per ragazzi più giovani mi rende molto orgoglioso anche di tutto il percorso che ho fatto fino ad adesso quando hai cominciato a giocare a baseball e se hai sempre pensato in portuo che fosse veramente il tuo sport allora prima di tutto bisogna dire che per quanto riguarda il baseball l'ho conosciuto per pura casualità in una vacanza a Madrid dove nel tempo morto accendendo la televisione insieme a mio fratello che pure lui gioca nella nostra stessa squadra c'era appunto una partita di baseball da lì ci è piaciuto tutto quello che era l'ambiente e proprio il gioco quindi abbiamo detto andiamo a provarlo e questo era nel 2008 dove data in cui ho iniziato e da lì mi sono completamente innamorato come mio fratello uguale e non ho più smesso il tuo ruolo è quello di lanciatore quali caratteristiche deve avere un buon lanciatore un buon lanciatore prima di tutto deve essere rispettoso verso quelli che sono gli avversari perché può capitare che un avversario venga magari colpito o non gli si voglia fare tra virgolette battere un determinato lancio però in tutto questo ci deve essere sempre rispetto perché nel momento del colpito che ovviamente non avviene per come gesto volontario bisogna sempre avere la coscienza e il rispetto verso l'avversario nel fatto di fargli capire appunto che questo gesto non è stato volontario e la cosa più bella che io ritrovo durante appunto le partite come lanciatore è proprio l'affrontare il battitore quindi non tanto usarlo come scudo per proteggermi ma quello che piace a me è mettermi in gioco per dimostrare in primis a me stesso chi è veramente più forte dei due Qual è il livello della squadra di quest'anno? Credi che sia all'altezza di affrontare un campionato comunque impegnativo? Sì quest'anno noi abbiamo dei giocatori molto validi che sia negli allenamenti che anche in queste partite che ci sono state amichevoli si sono visti all'altezza e quindi penso che questo campionato sarà un bel campionato e come diceva prima Antonio il fatto di essere tutti giovani può essere anche un aspetto positivo un elemento di forza esatto grande compattezza di spogliatori grande unità di intento assolutamente che campionato sarà? Quali sono le antagoniste più attrezzate quelle che porteranno per i primi posti mentre credo il vostro obiettivo sia mantenere la categoria sì diciamo di sì mentre negli ultimi anni la federazione FIPS la federazione a cui apparteniamo ci ha creato dei calendari con spostamenti anche importanti anche economicamente visto che non siamo una società chiaramente siamo una società dilettantistica quindi abbiamo dovuto affrontare trasferte due volte a Firenze una volta a Foggia quindi abbastanza Foggia verranno assegnate di nuovo Foggia semmai è la nostra seconda fase la nostra seconda casa sì esatto quindi dicevo due trasferte a Firenze più giocare di sabato sera quindi tornare alle 3 4 di notte andare a Foggia che partisce alle 3 della mattina quest'anno sembra un campionato fatto sotto casa perché sembra strano ma due squadre che erano in Serie A e sono tutte e due di Rimini cioè il New Rimini che è la squadra che abbiamo affrontato sabato questo in Amichevole e la prima che affronteremo è la prima di campionato il Torre Pedrera che è un quartiere di Rimini sono retrocesse tutte e due dalla Serie A quindi sono tutte e due a Rimini più c'è questa neopromossa Rimini 86 quindi tre volte andremo a Rimini ok più ci sono altre società che sono delle marche quindi faranno parte oltre Alfano dunque andando al sud c'è Cupra Montana la parte è un po' del verticchio quindi ok Cupra Montana poi c'è Potenza Picena poi c'è Porto Sant'Elpidio ok e siamo 3-4-3-7 e l'ultima è Foggia quindi come abbiamo detto abbonati ad andare a Foggia hai fatto riferimento ad altre realtà marchigiane qual è la portata del movimento nelle marche e qual è lo stato di salute poi più nello specifico del baseball fanese beh allora nelle marche ci sono parecchie società sono un po' diciamo suddivide sulle varie categorie diciamo che la punta di domande è Macerata perché Macerata è da anni che fa la Serie A sta provando ogni anno a rinforzarsi per cercare di arrivare alla pool scudetto quindi è piena di giocatori interessanti chiaramente si attingono diciamo al mercato anche straniero quello che noi come scelta societaria cerchiamo di fare il minimo il meno possibile ecco e dicevo c'è la punta di diamante che è Macerata che ha due squadre in Serie A sia nel baseball che nel softball quindi con grandissima tradizione una grandissima in realtà esatto poi dopo ci sono queste squadre che abbiamo detto adesso che sono in Serie B e poi ci sono altre squadre che sono in Serie C come il vicino Pesaro e Monte Granaro se non mi sbaglio quindi ci sono 8-9 società questo a livello regionale prendo spunto anche per dire che a livello regionale qualche anno fa abbiamo diciamo organizzato il torneo delle regioni un grande evento nel 2019 Gifano era una delle piazze e che tra l'altro ha coinciso anche con un grande afflusso turistico in bassa stagione con una manifestazione anche a Lido di grande suggestione sì io ho preso la palla al balzo essendo quella volta non ancora precedente ma membro diciamo responsabile del settore giovanile proprio il settore a cui apparteneva tutta questa manifestazione ho preso la palla al balzo per dire ok alle Marche siccome erano su vari campi itineranti io ho forzato la candidatura di Fano come palcoscenico per diciamo la manifestazione inaugurale ok si può ipotizzare in futuro un bis o qualcosa di simile io me lo auguro fortemente anche perché la nostra città ha vocazione turistica ed è una città bellissima io sono amante della nostra città quindi c'è un motivo in più per farla vedere a livello a livello nazionale assolutamente sì torniamo alla squadra il tratto di continuità è costituito anche dalla guida tecnica assolutamente sì diciamo che è stato uno switch l'anno scorso avevamo affidato la squadra sulle redini del nostro allenatore straniero che è Ronny Romardo Rodriguez e vero accogliato prima come lanciatore scusate come preparatore dei lanciatori Dodo Furiassi quest'anno invece c'è stato un capovolgimento quindi il manager sarà Dodo Furiassi e il secondo sarà Romardo Rodriguez non dimentichiamoci che Rodolfo Furiassi è colui che ha portato Fano negli anni passati due coppi taglie di categoria ha sfiorato più volte la promozione in Serie A quindi diciamo che abbiamo attinto al massimo dell'esperienza che c'era in zona possibile e quindi proprio l'esperienza dell'allenatore per far crescere una squadra giovane come la nostra ecco dal vostro punto di vista avere dei riferimenti certi come questi due allenatori è una garanzia credo esatto questi due allenatori ci danno come hai detto dei riferimenti certi sono per noi appunto delle linee guida da seguire e sono sempre sempre disponibili verso quelli che sono i nostri aspetti se abbiamo qualche dubbio o se comunque vogliamo migliorare su qualche aspetto loro sono sempre disponibili anche l'anno scorso si sono mostrati sempre disponibili e la cosa molto positiva che ho notato e non solo io comunque all'interno della squadra è che questi allenatori non sono diciamo due soggetti esterni ma comunicano con noi come se avessimo la stessa età alla fine anche se la differenza di età esiste comunque e questo fatto di comunicare con noi come se fossero anche amici alla fine rende ancora di più la squadra tutta unita e dà forza alla squadra per andare a affrontare questo campionato accennavamo all'attività svolta sulla base sul piano del reclutamento come vi vomete in questo senso credo che siate sempre molto attivi no? sì esatto abbiamo allora diciamo il canale quello più più usato è il passaparola però dove andiamo a tingere sono chiaramente le scuole dove cerchiamo di entrare con vari progetti nelle scuole elementari o medie diciamo il nostro sport è siccome è molto complicato anche se non sembra quando si guarda però ha molte regole è preferibile diciamo iniziare all'età insomma in terza quarta o quinta elementare per arrivare poi a un certo livello negli anni successivi abbiamo un bel settore giovanile seguito da vari allenatori più o meno quanti sono i tesserati? una cinquantina sono più o meno per noi sono tanti sono numeri importanti bisogna rapportarsi allo sport esatto abbiamo comunque iscritto tre squadre nelle categorie giovanili Under 12 Under 15 e Under 18 anche qui come avevo accennato prima avremo l'accordo con la collaborazione del Pesaro quindi se servono qualche giocatore il Pesaro ci li dà in prestito a noi e viceversa quindi riusciamo tra tutti e due a fare un po' di squadre per giocare e lottare nelle categorie giovanili dicevo responsabile di tutto questo e poi Berto Gabianelli che è un ex giocatore fino all'anno scorso ha giocato adesso ha preso il patentino dall'anno scorso quindi l'anno scorso si divedeva tra allenamento giovanile e la prima squadra quest'anno anche lui ha smesso e quindi si dedicherà diciamo tu cura al settore giovanile da sempre il quartiere generale del baseball Fano è il diamante della trave che dopo tanto tempo verrà sottoposto ad un intervento di adeguamento che è già cominciato lo attendevate immagino da tempo e lo salutate con favore anche se magari un po' interferirà con l'attività assolutamente sì devo ringraziare l'amministrazione comunale nello specie anche l'assessore Barbara Bunori che si è prodigata sono un paio d'anni che avevamo in mente questo progetto era stato anche divulgato e promosso in cosa consisterà consiste in buona sostanza nel rifacimento della della rete della recinzione in generale specialmente poi con molta cura nel campo perché noi abbiamo un campo Signores dove giocano le prime squadre e l'Under 18 e un campo Ignores uno dei pochi delle marche della zona quindi diciamo abbiamo un campetto proprio fatto apposta per le categorie giovanili quindi il rifacimento anche nell'osservante della sicurezza della diacente pista Zengarini quindi abbiamo fatto alzare la rete perché le palline non vadano non vadano all'interno della pista ciclabile e in più abbiamo anche allungato il campo maggiore quindi c'è un allungamento del lato esterno per avere le dimensioni per giocare in serie A perché in questo momento non l'avremo avuto anche perché non dobbiamo dimenticarci ma in questi ultimi 3 2 3 anni abbiamo sfiorato la serie A per una partita e purtroppo e quindi vi siete attrezzati anche con il campo si purtroppo era capitato nel periodo del covid per cui la federazione non aveva istituito playoff cioè per cercare di ridurre almeno le partite in questo ultimo periodo saremmo arrivati a disputare più di un playoff bene grazie ad Antonio Valieri presidente di Fano Baseball 94 e grazie anche a Luca Pierotti lanciatore della squadra fanese noi vi salutiamo per questa settimana è tutto vi attendiamo la settimana prossima per la settimana